ciao io sono tom il nuovo assistente di daniel fatto con l'intelligenza artificiale ti ricordo che se vuoi vedermi o vedere daniel ed i suoi video puoi iscriverti al canale attivare la campanella su tutte le notifiche così rimani aggiornato buongiorno ragazzi benvenuti nuovo video grazie gersole come al solito di essere qua oggi proviamo un po un po un po un po a parlare della lega master a vedere come sta andando come ci sta andando a tutti e due a vedere un po di punteggi a vedere cosa hanno fatto gli altri insieme a girso rei proveremo a commentare le squadre degli altri che stanno facendo veramente molto 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 ma molto molto bene sei pronto gier certo non vedo l'ora allora partiamo come possiamo vedere questa è la classifica generale ora sorer che sta facendo dei punteggioni veramente altissimi 321 8 prima game week 314 e 3 nella seconda vi ricordo ragazzi che siamo nella seconda game week e vi ricordo che i punti sono i punti effettivi senza bonus senza bonus capitano senza senza alcun bonus quindi proprio punti effettivi sul campo quelli dati da opta senza alcun bonus né bonus collezione né bonus xp né bonus capitano né niente quindi vorrei farvi notare che 321 8 e 314 e 30 è veramente tanta tanta roba i miei complimenti a ora sorer che andremo proprio ora a guardarci la sua squadra allora che ne dici di sta squadra gr no una bella squadra poi sicuramente l'avrà preparata apposta in occasione di questa game week facendosi che le medie rientrassano nel cap e scherando comunque giocatori forti come gabriel jesus con anche partite abbastanza facili sulla carta e quindi le avrebbero permesso di segnare tanti punti una squadra quasi tutta premier league sicuramente solo un po di fortuna mentre nella cap però anche impostare una buona squadra aumenta notevolmente le possibilità quindi complimenti a lui che due volte su due si è piazzato bene sì è veramente molto in gamba veramente a fare sta facendo un ottimo 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 lavoro e sarà dura batterlo però ci proviamo giusto ma che basta poco con questa segnazione di punti qua indice a scontri diretti più poi classifica stile formula 1 basta veramente box lui sbaglio una game week un altro messa la fa molto bene la classifica si potrebbe ribaltare subito giusto comunque i miei complimenti a ora sorer perché ha fatto veramente tanta ma tanta tanti bei punti tanto studio dietro bellissima squadra andiamo al posto numero due che abbiamo il nostro amico mister bin che ha fatto tre 17 10 286 70 nella seconda game week e lui si presenta con una squadra fatta così ve la faccio vedere subito che ne dici di questa invece otamendi raffa sebastian simansky schmidt portiere con cap zero ed evanilson è bella squadra poi portiere con cap zero sicuramente è una marcia in più comunque giocatori come otamendi raffa silva stanno forse un po meno raffa ma anche vanilson giocatori che ha una media molto alta per fare entrare una cap aver messo schmidt le aiutate sicuramente anche in questo caso la formazione è stata studiata e giustamente poi ha pagato giusto molto ma molto giusto veramente tanta roba anche questa è un osso duro questo mister b quindi dovremmo mettercela tutta come tutti per batterlo logicamente è la seconda volta che vedo che lui utilizza questa tattica perché la prima volta ha usato mendy la seconda volta ha usato schmidt sono curioso la terza volta chi usa come portiere cap zero perché vedo che si sta mettendo molto 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 a studiare la situazione al terzo posto sono io che come potete vedere ci abbiamo 298,9 tanta roba e 305 50 seconda green week sempre tanta roba perché perché io ragazzi ho giocato in quattro ho avuto la sfortuna che rabbio non giocasse quindi io ho giocato in quattro vi faccio vedere subito la mia squadra che è questa che è una squadra al dell'ultimo momento perché volevo mettere anch'io il ghent volevo mettere schmidt volevo mettere summerville volevo mettere volevo 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 poi ho sentito che praticamente mi diceva qualcuno che sono a rischio le partite a causa del maltempo non ho voluto rischiare ho fatto bene da un certo punto di vista da quel che vedo e ho messo con de ho messo franquesa rabbio che lo davano titolarissimo però dopo il sabato era troppo tardi per saperlo che si era infortunato un infortunio minore allegri infatti nella conferenza stampa ha detto che non verrà manco a lecce quindi ci sono proprio rimasto ho detto cavoli questa game week qua mi rovina mi rovina la lega invece non me l'ha rovinata perché ho avuto la fortuna che il resto facessero molto ma molto molto bene che ne dici di sta squadra è davvero un peccato aver giocato in quattro cioè con rabbio in più saresti andato anche a premio nella classifica globale sarebbe stata molto una mano molto notevole nella lega saresti probabilmente arrivato prima ho preso punti di quelli che hai preso mi è un peccato però cosa si può dire 300 300 punti con quattro giocatori 350 con i bonus c'è poco da criticare la squadra sono esattamente 305,5 tanta tanta roba ho avuto anche fortuna ricordiamo ragazzi che bisogna anche avere un po di fortuna però una cosa che vi voglio far vedere esempio ora sorer che è arrivato primo a 351,71 con i bonus che non calcoliamo noi nella lega master e io con i miei bonus giocando in quattro anche se francesco lampardo ora sorer ha vinto sarei il primo quindi ragazzi i bonus contano tantissimo infatti io avevo carte altissime 13 per 112 l'unico vlaovic che appunto è carta vecchia sarà stata passata da 20 mila persone quindi ha perso di bonus e diego garcia cioè i miei tre i miei tre hanno dei bonus fenomenali che aiutano tantissimo anche se francesco lampardo ha fatto sul campo voti effettivi migliori di me che stiamo parlando di una differenza di esattamente ora sorer ha fatto 3 14 ho fatto 3 5 quindi stiamo parlando di 9 punti circa differenza 8 70 esattamente effettivi io tramite i miei bonus collezione e i bonus xp riesco a batterlo semplicemente cioè cinque punti in più ho recuperato la differenza di punti effettivi e cinque punti in più quindi ragazzi ho sempre detto su sto canale i punti esperienza sono importantissimi soprattutto nelle parti alti della classifica sei d'accordo gier no giustissimo soprattutto nella cap ti aiutano tantissimo poi superare la soglia e non comportano neanche un costo maggiore in quanto comunque sono giocatori che tu puoi schierare tranquillamente giochi con degli stack prima o poi li girerai tutti in base alle situazioni anche sono anche utili le collezioni per poi rientrare nel cap 240 più alternative della stessa squadra puoi sfruttare magari quei panchinari che giocano in al posto di qualcun altro che hanno una media molto bassa quindi alla lunga probabilmente gli stack sono molto molto efficaci nella cap poi in generale comunque le collezioni sono quei punti bonus che chi punta davvero in alto può beneficiare tantissimo perché anche un qualche posizione un paio di posizioni quando ti ritrovi nella top 100 top 50 in base competizione fanno differenza di molti euro poi effettivi sul premio logicamente sì io ho preso anche il primo premio asia il mio solo primo premio che ho preso adesso fino adesso nella mia carriera di manager store air e l'ho preso grazie ai punti xp ai punti bonus perché appunto io punti effettivi ne avevo tre o quattro in meno del secondo e del terzo addirittura però grazie ai punti bonus sono riuscito arrivare al primo posto praticamente andiamo avanti col posto numero 4 il quarto classificato si chiama triplo 7 e w che ha fatto 217,5 nella prima game week e 294,3 nella seconda battendo vi ricordiamo che qua ci sono anche gli scontri diretti due volte su due il suo avversario io esempio ho battuto solo una volta i primi due hanno battuto due volte su due e anche questi sono sempre tre punti in più perché alla fine in questa lega ciò che chi vincerà dovrà avere il punteggio tipo formula 1 maggiore quindi quindi aiutano tantissimo anche gli scontri diretti andiamo a vedere la squadra che c'ha triplo 7 e w allora lui ha uno giuventus portiere atletico roma depol e un turchino che ne dici vista squadra una buona squadra sicuramente visti punti lui è stato che è molto fortunato perché ho visto che con 217 punti ha vinto la prima giornata e sono pochi relativi agli altri potessi che l'hanno visto finora quindi sono anche fortunato nonostante abbia quindi si può dire sbagliato una game week con solo i 217 punti vincendo quella dopo con 294 appiazzandosi bene è riuscito a essere comunque altissimo in classifica quindi guardiamoci veramente io questo non l'avevo visto 200 non l'avevo visto l'avevo anche detto però non l'avevo non ci avevo fatto caso 217 veramente bassino come voto però due su due duelli vinti ha avuto anche un po di fortuna nel duello penso non mi ricordo chi era ma però questo dimostra come le regole di questa lega poi permettono facilmente di ribaltare la situazione nonostante i punti fatti sì sì ragazzi può ancora succedere tutto ci sono ancora quattro game week infatti noi se andiamo a vedere però lo vedremo dopo c'è solo l'italian player che l'ultima la prima è arrivato ultimo adesso ha fatto quarto posto e so che domenico lo conosco personalmente è un ragazzo che studia molto e fa molto bene ha avuto sfiga la prima game week ma appunto può succedere di tutto infatti lo vediamo adesso in classifica che è al dall'ultimo posto è passato direttamente al quindicesimo che tanta roba vi ricordo a causa di due dnp due giocatori non gli hanno giocato nella prima game week e quella è tanta tanta sfiga comunque andiamo avanti profata calcio il nostro amico federico che partecipa con le rare ha fatto 3 14,2 2 63 80 la seconda game week profata calcio non possiamo vedere la sua squadra perché lui partecipa con le rare quindi non possiamo vedere che squadra che ha avuto però ha vinto lo scontro diretto almeno no ha vinto uno degli sconti diretti penso la prima game week che ha perso il secondo perché ha solo 3 punti negli sconti di diretti andiamo avanti con cecco 93 che si posiziona come sesto bravissimi a tutti e ragazzi ripeto 325 punti e 243 3 punti negli scontri diretti e il resto tipo formula 1 è a 29 punti andiamo a vedere la squadra di cecco 93 per farci i cavoli suoi per vedere un po cosa ha schierato e vediamola eccola qua che ne pensi ma molti di questi non li conosco penso siamo giocano molti in turcchia non c'è son fernandez conosco l'attaccante giovane ovviamente l'ivacovic dopo che si è trasferito dalla dinamo zagaba conosco qualcuno sì però faccio fatica a dare un parere su questi giocatori perché non conoscendo non so neanche che media avessero prima della giornata so che chi li x coi non so come si pronuncia mi sa che un giovane molto interessante sono media bassa ma può rendere tanto quindi viene sfruttato abbastanza in questa competizione ma degli altri non saprei tanta tanta roba complimentoni ha fatto bene e andiamo avanti a vedere chi è il settimo 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 il nostro amico giammi con duecento abbiamo il settimo posto il nostro amico giammi con due settantotto virgola due la prima e due cinquantasette virgola sei la seconda scontri diretti vinti tutte due guarda te punteggi non altissimamente alti soprattutto nella seconda però ha vinto tutti e due gli scontri diretti anche qua ha avuto secondo me un po di fortuna conto tantissimo la fortuna in questa modalità al di là delle competizioni del torneo in sé ma potendo la cap 240 bisogna affidarsi molto alla fortuna poi se c'era anche nei scontri diretti e maggior ragione ti riesci a piazzare bene in classifica giusto adesso andiamo a vedere la sua squadra per farci un po i cavoli degli altri giammi c'ha ranch ramage coach cook è fortissimo raffa e artur cabral secondo me ha avuto un po di sfida perché raffa e cabral potevano fare molto meglio ho visto un raffa anche in un'altra squadra e poteva far meglio è vero è vero peccato anche lui in questo caso magari poi le percentuali perché magari molti utenti come dire c'è una squadra focalizzata su magari il capitano forte a cui dare il bonus percentuale quindi giocano si studiano la squadra in un determinato modo poi si ritrovano in questa modalità dove il capitano non conti si devono adattare un po di conseguenze magari qualcuno può non rendere al meglio cioè una squadra non fatta apposta per questa competizione dove bisogna sfruttare totalmente il cap e basta giusto andiamo a vedere il l'ottavo posto che abbiamo Dario Focardi che mi ha battuto nel primo duello per quello che io solo tre punti duello ha fatto 3 14 50 la prima e io appunto avevo fatto 2 98 9 e 2 48 la seconda e ha vinto solo il duello contro di me appunto quindi si trova all'ottava posizione andiamoci un po vedere che squadra che ha schierato il nostro amico Dario andiamo a vedere che squadra ha schierato Dario Focardi e ce l'abbiamo qua che ne dici di questa squadra che secondo me non è male per niente a me piaceva tantissimo Fleming se è un nome interessante però purtroppo che gli ha reso male è andata molto bene con il blocco Milan che ha reso abbastanza bene anche Mendy comunque adesso che gioca si può sfruttare complesso una buona squadra sì peccato per Mendy che ha fatto veramente malino e Fleming anche se Fleming faceva mi ricordo un anno fa ce l'avevo faceva degli ottimi esatto cioè una ogni due diciamo era sopra i 60 70 ma puoi vedere il punteggio se premi sopra magari vediamo anche il punteggio che media non lo conosco benissimo magari è stato un caso oppure adesso al Millwall giocava al Fortuna Sittard io parlavo di un anno fa circa ancora di più comunque adesso secondo me gioca poco e non gioca da titolare da quel che vedo però era al Fortuna Sittard ed era veramente forte era veramente buono allora anche se è un buon giovane i prezzi si vende intorno ai 3 euro 0 9 2 27 si sui 3 euro non è male non è male è un ottimo è un ottimo giocatorino andiamo a vederci invece il l'inventore di questo torneo il nostro amico è l'argento trader andiamo a vedere è l'argento trader che lui ha fatto la prima 255 4 la seconda 265 40 con una vittoria nei duelli quindi andiamo a vederci lui che squadra che aveva ha schierato sono veramente curioso e l'argento trader ha schierato jean butez di cui per che ha il suo idolo da quel che so shuto abbe che per sfortuna non gli ha giocato vincent jansen che ha fatto tanta roba 77 e spieler che ha fatto 68 non male cioè la soglia l'ha presa 301 punti con i bonus a tutto non male come squadra peccato che non gli abbia giocato uno perché sennò ma la domanda che vuol dire spontanea ma non è che forse lui la fessa apposta lui con uno comedia 0 per inserire gli altri perché so che sono giocatori buoni gli altri con una media molto alta scara in una capa quindi può essere che l'abbia messo appositamente giusto 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 può essere soprattutto di cui per aver avuto un capo molto 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 anche jansen un bell'attaccante altro difensore è infatti il 15 56 lui di cui per chi è che ci aveva ancora abbe non ha giocato anche jansen c'è la media alta jansen sì l'attaccante vincent vediamo non so gli altri giusto comunque la schierata abbastanza bene dai ha avuto la sfiga di shuto abbe però è così se la vi dicono alcuni comunque capita come è capitato a me è capitato pure a lui andiamo a vederci adesso invece lamella che si piazza al posto numero 10 classifica generale dopo la seconda game week che ha fatto 248 e 90 e 268 e 40 ha vinto solo un duello vedi i punteggi bassi però il suo duello l'ha preso i tre punti se li è presi punteggi bassi non bassissimi però neanche altissimi e i suoi punti se le presi se le presi vediamo lamella come ha schierato sono veramente curioso come ha schierato lamella questa è la squadra di lamella che ne dici una buona squadra anche lui nessuno gioca sull'europa ovviamente comunque non conosco tutti questi giocatori però qualcuno di nome anche lui c'è bonus molto alti che purtroppo non può utilizzare quindi queste cose poi a chi fa le squadre già preparate infatti molti io però anche io personalmente magari anche altri utilizziamo squadra già che va in precedenza io non la vado a modificare giornata in giornata sono una squadra preparata per la capa gioco con quella sono molto penalizzato dai bonus xp io personalmente ma spesso anche dal capitano però ma altrimenti tu c'è la collezione vero o sbaglio va un buon giocatore un 3 per cento di collezione comunque sono coperto riesco a girarli bene in base al cap infatti solitamente arrivo sempre a soglia normalmente comunque faccio buoni punteggi sono partito forte la prima giornata sono un po calato in questa giornata che altrimenti purtroppo sono un po sfortunato in pari nella partita ma poi sono abituato a giocare in altro modo insomma con molti bonus xp e qua ne sto risentendo davvero tanto comunque tanta roba buon risultato anche per lamella e decimo metà classifica quindi può ancora succedere il tutto perché appunto siamo alla seconda giornata ce ne vogliono ancora quattro siamo un terzo del tutto quindi non si sa ancora nulla andiamo avanti abbiamo jimmy 1997 che ha fatto 246,246,90 e 254,90 ha vinto addirittura tutti tutti i duelli ed è a 23 punti posto 11 su 20 andiamo a vedere se jimmy c'è qua oppure no perché tre di loro giocano sì c'è allora jimmy 97 butez che l'ho già visto cabral che l'ho già visto dagli altri otamendi l'ho già visto raffa l'ho già visto e mesi e mesi ea bella squadra che ne dici molto sul campionato portoghese altamente raffa l'evan già vista anche cabral poi dei giocatori con l'1,5 per cento mi fa pensare che siano giocatori mirati acquistati solo per per questa lega quindi magari non è stato fortunata fortunatissimo comunque magari si era preparato parecchio per giocare questa giornata con questa squadra peccato un buon puntezzo ma magari poteva fare anche di più giusto come come tutti d'altronde ricordiamo che serve anche un po di fortuna essendo una cup 2,40 buono andiamo su google google 206 prima giornata 278 seconda giornata ha vinto un duello e ha fatto 23 punti a pari merito con lamella in generale quindi andiamo a vederci anche noi la squadra di google se c'è se c'è se c'è sono curioso perché ricordo che tre partecipano con la rara e google infatti non c'è in google non c'è google non ce l'abbiamo da quel che vedo quindi siamo in due già profanta calcio e google non c'è complimentoni anche a google purtroppo non possiamo vedere perché noi non stiamo partecipando alla alla rara stiamo partecipando alla limited passiamo al posto numero 13 che si trova qualcuno che conosciamo allora parla tu adesso ah io ero partito molto bene la prima giornata con cui gioco con uno stack tutto tuente non ho nessun altro giocatore una squadra che uso solitamente nella cap perché è uno dei bonus xp molto alti giocatori quindi parliamo sopra l'undici dodici per cento che mi aiutano molto spesso ad andare a soglia sono partito forte all'inizio col tuente che ha vinto 2 a 1 la prima giornata di questa lega ho preso due gol dell'attaccante un assist al centrocampo avevo vinto anche lo scontro diretto tranquillamente in questa seconda giornata sono stato un po sfortunato il tuente ha perso 0 a 1 una partita sulla carta molto fattibile purtroppo a metà partita si è preso un cartellino rosso un difensore ha compromesso la partita però nonostante questo il portiere mi ha preso tipo quasi settantina quasi 80 ho visto le parate probabilmente essendo in dieci hanno subito tanti tiri ha fatto tante parate anche un difensore ha preso un puntito superiore al 60 però purtroppo l'attaccante mi è andato male che aveva anche il capitano quindi non sono neanche arrivato a soglia e nonostante la mia squadra ha perso 0 a 1 e avevo solo un portiere un difensore dello stack difensivo gli xp sono arrivati a 266 punti comunque quindi una decina di punti della soglia è stato un peccato purtroppo nella lega qui senza bonus ho perso contro un avversario che ha giocato bene ma non ha fatto tantissimi punti il mio avversario mi sembra abbia fatto 255 quindi anche lui ne ha fatti tantissimi è stato un po fortunato magari a beccarmi contro chi giocavi giocavo contro jimmy e che ha fatto appunto pochi punti più di me ha comunque meritato la vittoria perché sono stato un po sfortunato spero di rifarmi nelle prossime la prossima partita il 20 sarà leggermente difficile perché va a giocare contro il Feyenoord in trasferta anche se prima giornata ha giocato contro la zeta e mi ha fatto fare un buon punteggio comunque non mi spaventa purtroppo ero pronto anche le partite difficili in queste sei giornate 4 su 6 partite erano facili una di quelle era questa e poi la squadra ha flopato quindi vediamo come andrà le prossime spero di un qualche buona partita qualche clean sheet che mi faccia non ha timore prendere punti in classifica speriamo bene dai buona fortuna andiamo a vedere 14 fantagrifo 274 5 2 40 e 10 e ha vinto solo uno scontro diretto vediamo come si è presentata fantagrifo che si è presentata in questo modo qua facciamo vedere subito allora fantagrifo si presenta così che ne dici di questa squadra una squadra full serie anche abbastanza economica devo dire comunque non male per una cap punta forte su gudum sono lui solitamente con il capitano che sta facendo una stagione molto bene altri giocatori sono molto low cost che andrà un po un po' a ruotare c'è questo blocco difensivo del genoa che ultimamente sta un po' traballando però dai per essere una squadra low cost comunque non è male ben studiato 58 euro 86 pagata praticamente questa squadra è il nostro amico e l'argento trader ha fatto i prezzi di tutti e sono andato velocemente a vederlo la maggior parte poi la maggior parte sono gudum son costerà ma anche il portiere perché mi sembra sia in prestito non so se dal salisburgo dall'ipsia comunque un giovane quindi a un portiere più a un prezzo più alto rispetto agli altri giusto complimentoni e buona fortuna ora abbiamo il nostro amico sorire italian player che ha fatto veramente bene arrivato quarto nella game week ha fatto un punteggione abbastanza alto 289 la prima vi ricordiamo che ha fatto 147 90 perché appunto due non gli hanno giocato sfiga totale ha perso tutti i due duelli contro chi ha giocato allora veramente sfiga perché 289 a perdere il duello è sfiga comunque un po sfortunato il nostro amico sorire italian player vediamo la squadra però si sta rifacendo e può ancora far bene vediamo anche la sua squadra che è questa che è composta da schmidt müldur desart de jong e kumms sven kumms desart è fenomenale 97 punti un gran giocatore ma anche kumms questo quello giocatori giocano in belgio che hanno le medie molto alte sono veramente delle bestie desart se ti guardi gli ultimi punteggi rimani scioccato infatti ha sfruttato molto bene schmidt con il cap zero per inserire questi giocatori anche lui l'ha studiata bene ha meritato di fare un ottimo risultato mi faccio solo un attimo un'idea per far vedere anche gli utenti guarda qua ha messo un 71 e le 15 non al cap 240 no ma guarda qualche punto di roba le ultime 6 sono 91 94 68 54 197 gran giocatore tanta 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 roba bravissimo sorire italiana player andiamo avanti con sorire agency che anche lui secondo me gioca con le rare però ve lo dico subito controllo e sorire agency ha fatto prima game week 185 48 seconda 2 57 30 e ha vinto un duello un attimo che controlliamo sorire agency questa è la squadra rara hanno loro hanno pagato tanto ricordo l'ho vista nel grafico ah giusto sorire agency purtroppo c'è la squadra rara non possiamo vederla comunque buoni risultati nella media diciamo la prima ha avuto un po di sfiga però 257 30 non è malissimo proprio e sopra la cap 240 e sono punti effettivi quindi ha fatto 17 3 in più e si ha vinto un duello penso la seconda quando ha fatto 257 30 e speriamo in bene per lui 15 punti non male può ancora succedere di tutto posto numero 17 abbiamo panofsky o sorire for bunnies 259 30 228 che ha avuto sfiga 228 228 avuto un po di sfiga duelli duelli persi ha perso tutti e due i duelli purtroppo e andiamo a vedere sorire from bunnies dove lo troppi dove lo troviamo che dovrebbe essere qua da noi sorire from bunnies panofsky allora panofsky si presenta così con il mio condè matzen è appunto non ha giocato uno uno gli ha fatto 16 il capitano a dire che sfiga purtroppo quando ti dice male c'è poco da fare ci vuole anche un po di fortuna comunque sfiga per sorire from bunnies però purtroppo è così comunque bella squadretta cioè 80 81 parti subito 80 81 il difensore che tanta roba vuol dire che un studio c'è dietro poi è intervenuta la sfiga e non ha giocato 16 52 nella media musli è già un buon giocatore quindi potenzialmente potrà prendere tanto un giocatore con una buona media secondo me non per niente è tirato è un giocatore io perché se l'avevo 64 alle 15 quando non ti gioca lo accusi insomma mi sto molto molto veramente mi spiace per panofsky comunque tanta roba può ancora succedere il tutto andiamo al posto numero 18 il diciottesimo che abbiamo double t 90 95 che si presenta così prima game week 185 30 seconda game week 261 e 20 e ha perso tutti i due duelli stranamente perché 261 e 20 avrei pensato che almeno uno l'avesse vinto però no però no però non vediamo che la media più o meno intorno ai 260 270 senza bonus comunque per cercare di vincere beh vedevo fantagrifo con 240 e 274 ma magari la prima la vinta sì con la media più o meno siamo lì che almeno diciamo quasi 280 punti per vincere la mia idea è che se vai a soglia tutte le sei hai tante possibilità per vincere questa lega cioè deve essere costante non devi pensare di fare il boom perché alla fine non contano i punti sore il conta come possiamo vedere qua stile formula 1 e vincere i duelli quindi secondo me secondo me se vai a soglia tutte le volte puoi fare veramente tanto contano questi punti qua che vediamo qua destra punti totali gli scontri diretti infatti io ne ho perso uno e già sono terzo anche se normalmente se facciamo la media dei punti dovrei essere secondo come media punti effettivi se mettiamo i bonus che ho avuto secondo me sarei primo già la seconda game week sarei primo lo dimostra sorail con i punti bonus e la prima molto probabilmente insieme sarei primo in generale però le regole sono queste non c'è problema era solo un una piccola parentesi per farvi capire che anche se fai meno coi bonus collezione mi ripeto forse ma deve entrarvi in testa puoi fare veramente tanto 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 soprattutto nelle parti alti della classifica allora eravamo rimasti ad apple t double t 90 95 che lui si è presentato con questa squadretta qua cosa ne pensi di viviano italiano al cento per cento castelletto e ce l'avevo per era forte aiev che ha fatto bene ieri amo che non ha fatto benissimo e anche per era stranamente ha fatto 27 si per era giocava contro il milan questa ha perso 2 a 3 però comunque un giocatore che solitamente fa più punteggio di questo quindi peccato normalmente tanta soglia comunque 286 con i bonus senza bonus un posto sfortunato qualche 27 30 di troppo viviano ha subito il gol peccato poteva abbia di più con un po più di fortuna 261 e 2 senza bonus quindi guarda 20 punti 25 punti sono solo i bonus quindi tanta roba tanta roba andiamo a vedere posto numero 19 che abbiamo l'amico luca ragnar 90 243,2 227,7 vediamo che ha perso tutti e due i duelli ed è in generale a 10 punti allora vediamo luca ragnar con cosa si è presentato magari anche un po di sfiga ci ha avuto luca ragnar perché conoscendolo vedendolo l'ho visto qualche volta mi sembra uno che ne sa un po di sorer quindi magari anche un po di sfortuna ci ha avuto vediamo qua michele coppens cote cums e gignac gignac 35 mi sembra strano anche cote è un bel difensore 25 mi sembra pure strano cioè qui c'è stata un po di sfiga perché la squadra non è putta proprio per niente anzi però la sfiga ha fatto del suo ha addirittura annullato la giornata non ho capito scusa ha addirittura annullato la giornata di capa ha ritratto la squadra che sfortunato 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 capita la squadra comunque forte su ottimi giocatori quindi sulla carta sicuramente poi abbiamo andiamo al posto numero 20 che c'è il nostro amico ciri il grande che era contro di me e lui ha fatto 200 virgola 40 la prima 221 la seconda ha vinto non ha vinto nessun duello fino ad ora però ciri dai che ce la puoi fare non è finito niente ci sono ancora quattro settimane quattro game week quattro weekend diciamo lui si è presentato così e per mia fortuna abbiamo giocato quattro contro quattro e il portiere non gli ha giocato e la seconda volta consecutiva diceva su discord che non gli gioca un giocatore non mi ricordo se due volte su due il portiere non gli ha giocato e quindi è una gran sfiga veramente una gran sfiga perché alla fine mostra famo a me da fatto 60 marmola fatto 77 che non è male però poi uguale anche io il mio attaccante del tuente solitamente era in serie un po di 5 partite che faceva gol o assist per andare a voti altissimi anche io ce l'avevo capitano ha flopato miseramente purtroppo la partita è andata così però sì lo capisco avere uguale che ti prende un 39 fa molto male rispetto agli standard ebbè purtroppo così è la vita purtroppo ci vuole anche un po di fortuna ricordiamola studio tanto studio ma anche un po di fortuna ok gr volevo chiederti che ne pensi cosa ti aspetti dove vorresti piazzarti cosa pensi di come pensi di arrivare magari sicuramente mi sento ancora partecipi so che posso puntare in alto potenzialmente comunque ancora lunga la lega ha dimostrato di poter fare ribaltoni facilmente io affidando meno stacche ho sfruttato anche le buone partite che ho sulla carta della mia squadra adesso la prossima potrebbe essere dura ma già se riuscisse a fare una buone partite comunque buoni punteggi c'è anche mediamente diciamo poter tranquillamente fare un 260 280 punti di media partita comunque tra corte in violato magari gol di metà accanti posso piazzarmi bene e risalire la classifica comunque nel complesso è molto divertente peccato l'unica nota piccola alta negativa abbiamo dato di vedere sono i bonus io li avrei inseriti i bonus xp che comunque davano valore a chi a squadra adesso al di là della mia collezione in generale che ci magari ci ha ragionato di più per parte squadra molto bene si ritrova ad essere un po equilibrato staresti parlando col primo classifica allora esatto magari al di là della collezione che comunque forse ci si può saltare magari bonus xp della carta in sé però almeno quello capitano l'avrei lasciato perché era quella dinamica in più all'interno delle competizioni che si andava un po di fortuna però le squadre sono preparate per avere il giocatore forte qui a segnarlo quindi magari almeno il capitano per me sarebbe stato divertente da lasciare non abbiamo purtroppo costruito noi questo 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 torneo e queste sole regole dobbiamo andare avanti così a me sinceramente mi sta sfavoreggiando tantissimo questa cosa di bonus collezione perché sarei stato il primo questa è la realtà però è così e andiamo avanti così gran bel torneo organizzato dal l'argento le regole erano chiare dall'inizio doveva andare avanti con le regole sue lui l'ha fatto e queste sono le regole e così dobbiamo provare a vincere ti auguro gr buona fortuna anche a ti auguro di rimanere davanti perché sto arrivando ti aspetto vediamo vediamo gli altri perché ora so resta veramente facendo benissimo e c'è un po di timore mister bim pure e c'è un po di timore sono curioso mister bim che portiere con l zero si trova per la prossima è due su due portiere con l zero cioè niente da dire anzi veramente furbo c'è una bellissima furba furbacchiata non è una furbacchiata è una cosa logica che tutti dovrebbero sfruttare bravissimo lui e sì vediamo speriamo di arrivare più su possibile già dalla prossima secondo me game week già si sta un po cominciando a vedere un po chi saranno i migliori secondo me terza quarta già la quarta siamo avanti poi logico ci sono ancora quattro game week ti auguro buona fortuna di arrivare il più su possibile magari un gradino sotto di me logicamente una fortuna anche a te però vedremo dai tante belle cose ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video ciao